Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info E se sono incontrate da volte, come i vecchi tempi della scuola, stanno nascendo insieme sotto racce, come a tanto tempo fa. Amiche per la pelle, che non lecche stelle, se te ne dico santo, non ne dite niente. Amiche per la pelle, che non lecche stelle, se parlano per l'occhio, se non si può parlare. Questa mattonella, ma si avrà fermato, perché la cucinale mangiava la ticciata, e può restare sempre amiche per la pelle, senza sapere che c'è. Alla stessa taglia di Lucia, e se presto deve stire, come a tanto tempo fa. Scendere per chi ha il tuo parrucchiere, in delle macchine, voglio, fanno tutto per fermare. Amiche per la pelle, che non lecche stelle, se te ne dico santo, non ne dite niente. Amiche per la pelle, che non lecche stelle, se parlano per l'occhio, se non si può parlare. Questa mattonella, ma si avrà fermato, perché la cucinale mangiava la ticciata, e può restare sempre amiche per la pelle, senza sapere che c'è. Questa mattonella, ma si avrà fermato, perché la cucinale mangiava la ticciata, C'è un der AD, che non lecce stelle mape, haininato, lecce stelle mangiava la ticciata, quindi nnanciamo certi che la cucinale mangiava la tend Bot, e ha il nostro duro danno salto, se lavato nella passione nella porta da terra. Grazie a tutti.